Asus ha presentato oggi il suo nuovo smartphone top di gamma Zenfone 9. Il dispositivo è stato svelato nel corso di un evento di lancio virtuale. Zenfone 9 è un dispositivo compatto con una diagonale di 5,9 pollici che è stato completamente riprogettato rispetto ai precedenti modelli. Assicura prestazioni elevate e integra nuove ed entusiasmanti funzionalità. Dotato del recente SoC Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 viene presentato come lo Zenfone più potente mai creato dalla società Taionis. Il display utilizza un pannello di tipo AMOLED realizzato da Samsung e supporta una risoluzione nativa di 1080 x 2400 pixel. Con un rapporto di aspetto pari a 29, una frequenza di refresh di 120 Hz, copertura al 112% della gamma di CIP3, 151% dello spazio. Colore sRGB e supporto HDR10+. Lo schermo è inoltre protetto con un vetro Gorilla Glass Victus. Per quanto riguarda la componentistica interna dello Zenfone 9, il SoC di Qualcomm lavora a 3,2 GHz ed è accompagnato con una GPU Adreno 730. In termini di memoria, il nuovo smartphone Asus è disponibile in configurazioni con 8 GB LPDDR5, RAM, e 128 GB di storage interno. ES3,1, con 8 GB di RAM e 256 GB di storage, 16 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Quanto alle fotocamere, quella principale posta sul dorso utilizza due sensori, un Sony IMX 766 a 50 megapixel e un IMX 363 a 12 megapixel. Nella parte frontale Zenfone 9 monta un IMX 663 da 12 megapixel. Le modalità di registrazione video possibili sono 8K UHD 7680 x 4320 pixel, a 24 fps con stabilizzazione elettronica dell'immagine. EIS 4K UHD 3840 x 2160 pixel, a 30 fratto 60 fps con EIS Full ad a 30 fratto 60 fps con Hypersteady. Lo smartphone Asus supporta Wi-Fi 6E, Bluetooth 5,2, NFC, USB Type-C, jack 3,5 mm. Integra inoltre uno slot che accoglie due nano SIM offrendo inoltre compatibilità dual SIM dual volt e 5G più 5G. La batteria da 4300 ma supporta la ricarica rapida con un adattatore Hypercharge da 30W. Le dimensioni sono pari a 146,5 x 68,1 x 9,1 mm ed il peso è di circa 169 grammi mentre il sistema operativo è Android 12 con la personalizzazione Asus ZenUI 9. Zenfone 9 è il primo telefono a utilizzare il nuovo sistema di accessori modulare Asus Connex. Gli utenti possono personalizzare la cover Connex agganciando gli altri accessori Connex nella metà inferiore della cover Connex. Smart Stand fornisce un comodo stand per posizionare lo Zenfone in orizzontale e può essere personalizzato per avviare un app o un gioco a scelta quando lo si apre. Connex Card Holder permette invece di tenere sempre a portata di mano le carte di credito o i propri biglietti da visita. Il supporto Smart Backpack Mount permette di fissare Zenfone 9 alla tracolla di uno zaino all'altezza e all'angolazione perfette per l'utilizzo in viaggio. Gli utenti possono inserire o estrarre il telefono dal supporto magnetico in un secondo, c'è anche un cavo di sicurezza, e proprio come Zenfone 9 è ottimizzato per l'uso con una sola mano. Il prezzo della configurazione con 8 GB di RAM e 128 GB di storage è di 799 euro. La variante con 8 GB di RAM e 256 GB di storage costa 849 euro mentre quella con 16 più 256 GB di storage interno ha un prezzo di 899 euro. Fino al 17 agosto è possibile acquistare lo Zenfone 9, 8 più 128 GB, a 729 euro in promozione sul sito ufficiale ASUS, presso gli ASUS Gold Store e su 1 euro. Grazie per la visione!